anni fa, hanno pensato di copiare il National Trust, qualcuno ha dato una proprietà del National Trust in Inghilterra? No? Vabbè, è un'organizzazione fantastica che ha 4 milioni di membri, 4 milioni, è un'istituzione, possiede un terzo delle coste inglese e ha centinaia di beni aperti, però ha 120 anni. La differenza è che tutti i loro volontari sono intorno alle loro proprietà, dunque sono funzionali alla proprietà. Alcuni volontari tagliano l'erba, alcuni fanno l'accoglienza, il bookshop, raramente raccontano la vila perché questo è anche un mestiere delle guide, non tanto dei volontari. La differenza del FAI è che i suoi volontari sono nati soprattutto per gli eventi, per fare le giornate FAI, forse qua non c'erano, che non posso dirlo, ma queste giornate FAI ci richiedono un numero di volontari pazzesco perché in due giorni ci sono 700 mila italiani che vengono a visitare una migliaia di luoghi, non luoghi del FAI, prima vi ho mostrato i nostri, sono 60, non avete un dubbio su questo, sono 1100, le mie le aprono lo stesso, però la forza è più o meno di aver preso un concetto che è le giornate del patrimonio, io essendo francese, in francese c'è le giornate del patrimonio, avete file ovunque, ma è lo Stato che apre le proprietà statali e dunque file pazzesche. In questo caso è il FAI che è una fondazione, avete visto prima, privata, che ha cominciato a sensibilizzare, adesso siamo molto contenti, ci sono le giornate di musei aperti per esempio, però questo è veramente un format, è una cosa che esiste solo qua. C'è un videino che si chiama GFP, se li riguardiamo così capiamo cosa sono le giornate FAI. Nel 1993, con l'idea di aprire a tutti gli italiani le porte di luoghi chiusi al pubblico, o mai raccontati prima, ogni anno, durante il primo weekend di primavera, è un evento unico nel panorama culturale italiano e il segreto del suo successo è il grande lavoro e l'entusiasmo dei volontari FAI che aumentano giorno dopo giorno. Nel 1996 nasce il progetto Apprendisti Ciceroni, erano 200, oggi sono decine di migliaia. Nel 1998 vengono aperti 200 luoghi in 100 comuni d'Italia. Nel 2007 i luoghi diventano 500, aperti da 7000 volontari FAI. Nel 2010 raggiungiamo mezzo milione di visitatori. Nel 2012 nasce il progetto Arte, un ponte tra culture, visite guidate in lingua per i cittadini di origine straniera. Nel 2017 abbiamo festeggiato i 25 anni del progetto, raggiungendo 10 milioni di visitatori. Iscriviti al FAI e lascia un contributo per ogni visita. Questo è ovviamente il concorso, avevamo le giornate FAI una settimana fa, comunque più o meno avevamo tutti questi volontari, però erano le giornate FAI di ottuno, perché dopo un po' di anni ci siamo accorti che forse facendo quella di primavera, e stranamente ci siamo accorti perché su internet la gente cercava una roba che non esisteva ancora, che era la giornate FAI di ottuno. Una roba pazzesca, la gente diceva, perché avevamo creato un format totalmente diverso, che era la FAI Marathon. La FAI Marathon la gente aveva con i shortini, ma purtroppo non è questo che facciamo, ho provato ad innovare. Alla fine quando ho improdotto un evento così forte, la cosa molto bella è che la gente dice che lo vuole ancora, lo vuole di più durante l'anno. Dunque questi sono un po' i nostri numeri, forse avete più domande dopo, però si basa sul fatto che i volontari, che sono quelli là, si mobilitano tutto l'anno, o almeno sei mesi prima, per fare un bel evento. Dunque abbiamo 122 delegazioni che sono proprio costituite, con dei delegati, sono 1.200 persone con un ruolo, capo delegazione, responsabile cultura, responsabile raccolta fondi, tesoriere, e sono ovunque, questo devo dire in un'unicità. Abbiamo anche dei gruppi che sono quelli che si avvicinano alla fondazione e che vogliono diventare delle delegazioni. Di recente abbiamo creato anche i giovani, perché molto spesso è l'immagine che la gente aveva del FAI, che era la vostra nonna più o meno che si interessava al FAI, andava a prendere il tè, andava a fare vita sociale, questo era quello che eravamo un po' di anni fa. Loro ridono perché sono più grande, voi non sapete, ma era questo. Lo è ancora, ma abbiamo i giovani che sono diventati veramente una forza. La cosa interessante è che le giornate FAI di primavera sono fatte della delegazione in generale, le delegazioni di autunno sono fatte dai gruppi giovani e questo ci interessa un sacco, perché è veramente un modo di dire, tu hai l'esperienza comunque della delegazione che può aprirti Palazzo Serbeloni qua in due minuti, perché si conoscono, l'hanno già fatto diverse volte, però la forza dei giovani è che comunque te lo raccontano anche di un altro modo. Però attenzione, non è un evento per i giovani, il target mio non è sicuramente dei giovanissimi, anche se possiamo arrivare. Questo ci interessa meno, è un programma particolare, vuol dire che abbiamo anche dei presidenti regionali, abbiamo 19 presidenti regionali che sotto di loro hanno i nostri diversi delegati. Dunque è una struttura che prevede la gestione di tutte queste persone. In sede abbiamo una decina di persone che si occupa proprio di questo. però tutti gli eventi che sono non in questo ufficio che ci sono nella rete, comunica e va a mobilitare la nostra rete. È una roba che nel non profit succede molto in organizzazioni come Unicef, io ci ho lavorato un po' anni fa, esiste in Amnesty, c'è una dei mie colleghi che è innamorata di Amnesty, lei organizza la conferenza annuale, dunque si prende una settimana di ferie, adesso comincia a amare il fai piano piano, le abbiamo passato la passione. Però è interessante vedere questo, quanti di voi sono volontari in una situazione che non sono stati? Vedete, abbiamo una buona idea, abbiamo avuto una buona idea che amate e volete fare volontario, perché forse volete essere partecipi di un cambiamento in prima persona, non solo dando dei soldi, e questa è una motivazione molto interessante. Dunque calcolavamo un po' di tempo a 322 punti di attivazione sul territorio, è una grande forza del fai che per fortuna, perché 60 beni sul territorio, che molti di loro avrete visto al nord, ci creava un desequilibrio pazzesco. Quali sono le chiave nel fatto di avere, queste sono le chiave, le cose più importanti del giornate fai? Abbiamo dei luoghi eccezionali, anche se apriamo anche dei musei che sono aperti tutti i giorni, ma grazie a tutta la nostra comunicazione viene più gente o viene tanta gente, perché è anche gratuito questo giorno là, non è gratuito, e ha contributo suggerito. Legali che eravamo su questo ogni giorno, perché vogliamo comunque chiedere a qualcuno, se siamo là è per comunque fare una raccolta di fondi di piazza, questa è l'eccezione dei luoghi, proponiamo alle persone di riscoprire una parte della loro identità territoriale, le persone sono al centro della visita, perché è qua, Caterina preparati perché ti faccio parlare, la cosa interessante è che dei studenti vanno per la prima volta a raccontare loro un luogo, adesso ce lo dici tra un secondo, le nuove cani di comunicazione, una delle chiave è stato veramente avere strategie digitale per non essere soltanto a fare affissioni, perché comunque non ci interessavano, investiamo tanto, però perché vi parlo di questo adesso? perché la strutturazione dei gruppi e dei volontari è interessante e secondo la slide successiva la prima, la chiave più importante è di tutte le nostre aperture, avete un'apertura con tanti abitanti a Roma, è un po' più piccola a Firenze, Catania, ma in tutti i casi qua si crea una fila pazzesca, c'è più o meno ci sono due o tre file nella città che bloccano un quartiere, qua no, non c'è assolutamente una fila, c'è un po' di gente che viene, piccoli numeri, in tutti i casi vedete la chiave dichiarata dai nostri colleghi è avere un gruppo strutturato e fatto bene, la gestione delle code e la formazione e la proprietà di i giovani sono anche delle chiavi che abbiamo, che te ne attiva di raccontare cosa hai fatto e come era la, devi prendere un microfono e venire qua, se ci racconti così la cosa più importante secondo me è come ti sei sentita e come è stato io ho fatto Cicerone a Palazzo Sormani a Milano e mi ero dimenticata di averlo fatto, è sempre il 25 marzo che è il mio compleanno tra l'altro, ora che ci ho ripensato e mi sta venendo in mente, no ripensandoci mi è venuto in mente che è veramente un'esperienza simile a Sant'Agostino perché tu arrivi e sei, cioè non sai niente, ok, ti danno queste slide, te le danno la mattina stessa e ti dicono bene tu hai 16 anni e adesso devi presentare a gente che ne sa molto di più di te perché comunque chi viene è stata, queste sono le slide con tre cose in croce, un palazzo gigantesco con un sacco di quadri di cose, vai e tu sei tu lì con 8 anni in più di te, però è molto bello perché da un lato ti senti molto, secondo comunque sei da solo, almeno nel nostro caso era così, noi eravamo tipo quattro compagnie di classe e c'erano dei gruppi e a giro li portavamo, avevamo un giro prestabilito, avevamo fatto una giornata di preparazione però oggettivamente è come quando vai da Luca che ti dice tre cose e poi esci fuori e ti rendi conto che ne devi fare 300, quindi sì, ti ha un po' preparato però in realtà stavo pensando che da questo punto di vista secondo me è molto positivo l'aspetto del dare fiducia ai giovani, ci ripenso oggi a posteriori, nel senso che sentirsi coinvolti e vedere che ti lasciano in mano un gruppo a cui tu presenti, secondo me è molto, alla fine ti tira fuori. L'emozione di parlare per la prima volta forse in pubblico o non era la prima volta? Sì, anche sicuramente, sicuramente, ma soprattutto appunto il fatto che tu venga messo come dici tu al centro, anche se sei giovane, anche se ne sai di meno delle persone che magari vengono a vedere ed è anche bello in realtà perché poi chi è lì non è che pretende che tu sappia vita, morte e miracoli. Due domande per te, quando passi davanti il palazzo cosa succede che sei con un amico? Lo racconti? No, perché quel palazzo lì poi è anche stato il posto dove ho studiato per anni e quindi perché c'è una biblioteca dentro, quindi mi ricorda solo quello. E la seconda cosa? Sei iscritta al FAI? Sì, perché mia mamma fa la maestra e ogni anno ci obbliga ad andare a tutte le robe del FAI, perché pensa che abbiamo ancora sei anni e può testare le cose per i suoi bambini. Direi a tornare che l'amo francamente che non ho più te, tu puoi tornare là, il cuore e lo prendo, riprendo e lo mandiamo a tua mamma. È uno scherzo ma molto spesso lo dico con parole all'università, dico ragazzi, i miei donatori sono le vostre mamme e dunque diteli veramente. È quello che abbiamo provato di cambiare, il digitale ci aiuta, il tipo di comunicazione viene messo a una fine che è un po' più moderna, ci aiuta perché abbiamo proprio, c'è un nuovo brand, però il brand non è un logo, è proprio tutto un concetto, dopo dire che tutti lo rispettano, non siamo qua, ma è interessante il tuo feedback, grazie, adesso andrò a cercare chi la professoressa che vi ha formato, o è la tua mamma, a questo punto va bene, o se no la cazzeremo, perché noi siamo andati con Alessandra questa settimana, la settimana scorsa, a vedere il palazzo Edison, abbiamo detto a questi ragazzi fantastici, veramente come sarai stato tu, però avevano studiato, veramente erano preparati, no, erano veramente ben preparati, erano una cosa veramente bene, dopo ovviamente non puoi avere un controllo qualità, perché non è questo il punto, quello che mi interessa è che tu, quando sarai tu mamma, forse dirai, è vero che c'è il file, spero un po' prima però, vediamo. Allora, questo era per dire che ci sono i volontari, questo ve l'ho già detto, un po' di anni fa abbiamo detto, beh, noi siamo molto forti a marzo, ma c'è un grande buco prima di Natale, questo è stato un'idea più o meno semplice, però ci abbiamo messo un po' per arrivare a inventare, qua una cosa interessante, se non la fai di autunno, è che applichiamo un concetto di trisummer, ossia consumer che ci possono provare, questo si trova in marketing normalmente, ma noi abbiamo fatto lo sconto, lo sconto nel non profit non esiste, tu non puoi scontare la donazione a Greenpeace, guarda, no, la barca o gli attivisti te le faccio 10 euro in meno, non puoi farlo, noi lo facciamo con l'idea di dire avvicinati, prova, sicuramente il concetto c'è un discount piace molto, però per dire, questo è soltanto un momento, crea un problema, che il valore della tessera che è 39 euro all'anno, che è già bassissimo per le persone che conoscono le donazioni medie per un'organizzazione, su internet siamo tra le 60 e le 80 euro di donazione media su internet, una roba che propongo per tutto l'anno, a metà della donazione media di internet, e lo sconto pure, sono pazzo? Ah, sì, un po' sì. Questo sono, in termini di introiti, cosa sono? Questi sono i giornate di primavera e di autunno, i nostri target sono fatti di questo tipo di raccolta fondi, perché cerchiamo, e vi ho detto, sono eventi di raccolta fondi pubblica, che sono eccezionale, quindi ci sono le arance, per esempio per l'AIRC, ogni volta che uscite ne vedete uno, un banchetto, questo deve essere eccezionale, non lo possiamo fare di un modo continuativo, se no le strade sarebbe un casino, però questa è la legge, cambierà con il codice del terzo settore, che comunque è una novità per noi nel nostro settore, con nuove legislazioni, però stiamo ancora aspettando un sacco di emandamenti, perché per come funzionerà e studiamo tutti un casino. Dunque, le giornate Fai si basano su una raccolta fondi in tv, date l'SMS, date l'SMS, lo vedete, l'avete fatto sicuramente per una reazione, di aziende sponsor dell'evento, in questo caso Ferrari, per esempio, tutta una parte web che non esisteva tanto, prima la parte web non era di raccolta, era di c'è un evento, abbiamo il sito, ci mettiamo le notizie sopra, adesso raccogliamo più di un terzo attraverso questo, e la piazza ai nostri volontari, 3 milioni di euro, noi abbiamo 30 milioni di raccolta a conto economico all'anno, dunque per noi è un 10%, quando passa già questo, io che gestisco un budget di 10 milioni di introiti, sono molto contento, sia andato bene, perché dipende anche di questo. Aggiungere un evento ci ha permesso di aggiungere un milione di raccolta, però come facciamo con i volontari, perché è un evento veramente, veramente faticoso, Caterina è arrivata la mattina, vi assicuro che la Presidente regionale e il suo capodelegazione lavorano sei mesi prima, la sede noi mandiamo anche delle linee guida, come si fa a occupare il suolo pubblico, di recente come gestiamo delle haters su internet, ogni volta c'è qualcosa di nuovo, è molto molto interessante. Il tempo è sicuramente importante, troppo bello, va bene, ma la gente va anche in qualche altra parte, pioggia infinita, anche se davanti il pazzo Serbeloni o altri, anche se c'è la pioggia la gente viene. Il trucchetto che qua vi dico, perché per noi è un buon esempio, perché è soltanto una sensibilizzazione, con il tempo è diventato anche un modo di fare nuovi iscritti, con un altro meccanismo che è c'è una fila per iscritti e una fila per i non iscritti. Se tu sei iscritto dovresti entrare più velocemente dei altri e comunque fai parte della fondazione, comunque è un momento di... funziona sia a questo punto per fidelizzare i nostri iscritti, ma anche per reclutarli, nel senso che qua le nostre delegazioni reclutano, grazie a questi eventi soprattutto, ma non solo, un terzo dei nostri nuovi iscritti ogni anno. Questo se volete ci torno dopo, però è interessante vedere che questo è veramente un evento che fa raccolta fondi, contributi, iscrizione, per noi è superimportante. E ne abbiamo sofferto, torno indietro, ne abbiamo sofferto perché la gente alla fine ci conosce per questo, o ci conosceva per questo, sta cambiando. Questo è un altro censimento, c'è un videino che si chiama RDC, se lo guardiamo così ve lo spiegano meglio di me. E così bevo. Dal 2003 il FAI, Fondo Ambiente Italiano, promuove il censimento, i luoghi del cuore. Ogni due anni puoi votare i luoghi che ami e che desideri proteggere e valorizzare. È il più importante progetto di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio. In otto coedizioni abbiamo raccolto oltre 5 milioni di voti a favore di più di 35 mila luoghi in tutta Italia. Luoghi piccoli e grandi, noti o di valore locale, legati alla nostra identità e alla nostra vita. Dopo ogni censimento, il FAI interviene concretamente a favore di una selezione dei beni più votati. In 15 anni abbiamo sostenuto progetti a favore di 92 luoghi d'arte e di natura in 17 regioni. Ma l'Italia è costellata di luoghi unici che hanno bisogno del tuo aiuto per essere conosciuti, protetti, salvati. Fai sentire la tua voce. Da maggio a novembre 2018 vota i tuoi luoghi del cuore sul sito web iluoghi del cuore.it perché tutti noi possiamo tornare a vivere i luoghi che amiamo. Questo è un altro evento, non ve lo racconto in dettaglio, ripartirà ogni due anni, ripartirà ma a maggio. Due cose da farvi notare che non c'era, come non c'erano le giornate del patrimonio, non c'era un censimento dei luoghi importanti per le persone. Questo ha licensito più di 30.000 luoghi in Italia e permette a volte di dire anche alle enti locali che la gente ha un interesse per. Grazie a uno sponsor finanziamo dei restauri simbolici o più piccoli, sperando di fare leva anche su fondi che sono sul territorio e che non sono allocati. La sintesi è detto da me, ci sono altri modi di raccontarlo. La cosa interessante è questo numero, 2.200.000 voti, quando sono arrivato sette anni fa era 1.200.000, abbiamo lavorato un casino, mobilità dell'agente dove? Su internet. Qua abbiamo applicato una strategia che ha fatto crescere proprio tutta la parte di voti. Le persone votano più volte, questo è una roba che ci ho messo un po' per noi siamo arrivati perché dovevano avere una volta, non che le facciamo votare e rivotare perché sono propensi a votare per un luogo, ma anche investiamo e facciamo molta comunicazione. Quale tipo di video possiamo utilizzare? Stranamente la cosa che piace di più in tutta la fondazione, vi mostrerò un video divertente alla fine o più ricercato, fare un bel diaporama, perché costa poco, delle aperture GFP o dei vincitori ai luoghi del cuore e quello che fa più visualizzazione da noi. È una roba semplice, ma la gente ha voglia proprio di vedere cosa c'è intorno a sé, cosa c'è sul territorio e questo è pazzesco. dunque una roba, però il cuore l'abbiamo già vista. Ok, adesso la parte che era più interessante è la crescita che volevo raccontarvi, il resto sono cose che vi può raccontare sicuramente un volontario perché le conosce e tante persone sul territorio. Il premio sulla nuova dimissione credo che è successo è un altro modo di vedere la nostra storia. La fondazione con la signora Crespi nel 1975 con altri tre fondatori, fino al 2009. Noi la chiamiamo la fase di creatività, dunque l'idea era avere un National Trust italiano come sul modello dell'Inghilterra, non più essere come Italia Nostra che è un altro tipo di organizzazione che parla di patrimonio ma che non gestiva in prima persona, che non può essere un modello. Noi abbiamo 60 beni, non ne avremo 30 mila, non ci faremo mai essere un modello o dare l'attenzione al patrimonio è quello che ci interessa tra altre cose della nostra missione. E prime campagne di fundraising e di sensibilizzazione. La cosa interessante è che il modo di fare fundraising era un po' diversa, un po' delle proprietà che abbiamo erano persone che non c'erano la signora Crespi, una l'abbiamo acquisita anche grazie a amici, e dunque è tutta una partita relazionale, però piano piano una fondazione che si struttura, che inventa dei format, che ha dei professionisti, fundraiser, che è un mestiere, è un mestiere, e sì sì, ormai lo scrivono sulle carte d'identità, perché siamo molto felici. Dopo un passaggio alla signora Borletti-Bitoni, fino dal 2009 al 2013, quando è entrato nella vita politica, dopo ha dato l'emissione, e qua lo chiamo la fase di riorganizzazione, dunque benissimo, i creativi non sono conosciuti per essere delle grandi persone che gestiono bene i soldi, spendono, e quello che è successo da noi. Qua l'idea era, andiamo a avere un conto economico che è equilibrato, ma disegnare un'organizzazione e avere un piano per la prima volta plurianale. Qua è entrato un direttore generale nel 2010, che ha strutturato, ha ricordato gente come me, che vengono dal mondo, per esempio, del non-profit, della raccolta fondi nel mio caso, io lavoravo in Action Aid, ero responsabile della raccolta fondi là, lavoravo in Unicef, dunque cercare persone con skills, persone che sono proprio con esperienze. Non vuol dire che non c'erano prima, però c'era bisogno di fare un nuovo disegno. Nel 2013, un nuovo presidente, il presidente Carandini, che lui è un grande archeologo, il più grande archeologo italiano, forse attualmente, e qua proprio un disegno che vorrei raccontarvi in due secondi. Una nuova missione, e ve l'ho mostrato prima, con delle parole nuove o delle cose particolari. Una nuova visione, un piano strategico a dieci anni e dei piani di sviluppo triennali. Questa è la cosa molto interessante, secondo me, la stessa cosa che possiamo rivedere. C'è questo modello di crescita strategica, non so se qualcuno lo conosce particolarmente, però l'avevamo trovato di un modo veramente super illuminante. La creatività la ritrovate qui, dunque al momento, e quando finisce, adesso vedete applicato dal FAI. Dunque il FAI in 2008 è tutta la parte di creatività. Quando finisce, secondo questa matrice, è quando c'è una crisi di leadership. Sì, però qua ovviamente non vediamo. Il secondo è la crescita, dando una direzione, e questo è il secondo periodo. E qua è la terza fase dove ci troviamo, attraverso la delega. Dunque è una roba di veramente dare più potere alle diverse centri, non essere tutto al centro. Questo l'abbiamo trovato, vuol dire che dovremmo andare verso la coordinazione e la collaborazione. Questi sono i nostri numeri, però si applica molto bene, secondo noi, a quello che è successo. Gestare la creatività per andare in una nuova più economica, dare la direzione, ma dopo ridare il potere anche a quelli che fanno e che sono sul territorio. Super interessante. La crescita, vedete che crescono i numeri iscritti, cresce il numero dei beni, le persone, qua nel 17, 240 persone, ma anche la raccolta a fondi. Tutti gli indicatori della fondazione sono al verde e questo, siamo super felici. Dire che è facile, no, ma questo me lo chiederete dopo. La grande trovata è stata di andare a vedere il National Trust in Inghilterra, ma come si fa, perché come vi sta organizzando per crescere così tanto, aveva 4 milioni di persone, e la loro direttrice ci ha detto, beh abbiamo un piano, e noi abbiamo un piano, cos'è un piano? Dunque avevamo già dei piccoli piani, ma niente di 10 anni. Una fondazione italiana che aveva la sua cultura con un piano a 10 anni non c'era. non che io sappia, dunque se qualcuno sta guardando su internet forse me lo trova e ce lo manda. La cosa interessante è che anche molte non profit italiane non ce l'hanno. Quelli che ce l'hanno sono organizzazioni come quelle dove ho lavorato, che hanno uno spirito internazionale, come Action Aid, che era proprio di stampo inglese, o Unicef, che era proprio una pianificazione nazionale Unite, dunque è super strutturato. In Italia nel for profit c'è una pianificazione, c'è tutto. Nel non profit diciamo che ormai grazie all'arrivo di persone che vengono forse dal profit, che sono più schierate, si è fatto. Ma si è fatto così bene che francamente questo per noi è stato una delle chiave principali. Un piano strategico da dieci anni, cosa dice? Poche cose, la visione l'abbiamo interpretata con dei numeri, dobbiamo arrivare a tutti iscritti, tutti visitatori dei nostri beni, tutti volontari, questi sono i nostri KPI, direi più grandi, con una bella ruota del valore che ha più KPI, ma soprattutto tre piani operativi che ci guidano. Il primo è stato i nuovi target, dunque abbiamo proprio deciso di cambiare l'idea che possiamo fare soltanto con persone che vengono da noi, che sono la mamma di Caterina, che sono forse la nonna di Caterina all'epoca, e vogliamo parlare a un'altra tipologia di persone. Dunque abbiamo studiato, semplicemente quel che avrete fatto anche voi, target, audience e che canali e che contenuti per andare verso loro. Dirvi che abbiamo fatto tutto questo in un anno no, abbiamo fatto soprattutto la parte di targeting, ma anche la definizione del mercato. Il nostro mercato è veramente quello del non profit e delle donazioni? No. E quello delle visite del weekend? Forse, ma a questo punto, anche il centro commerciale è il mio concorrente. Abbiamo fatto un lavoro di marketing molto divertente, mi sono divertito un casino e ormai un po' di anni dopo era essenziale. È essenziale per il mondo della cultura, proprio tornare su definire mercato, audience e target. Niente di più che quello che avete studiato se avete fatto marketing. Il secondo era molto più basato sui nostri beni. Una volta che sappiamo chi vogliamo, possiamo organizzare anche i nostri beni e le nostre comunicazioni per comunicare con quelli là. In sintesi, perché non mi sembra che lo mostro, cosa è successo? Nel primo abbiamo detto, vogliamo passare a della gente colta, le chiamo i colti, persone che sa di cultura, che consuma cultura nel suo tempo libero, che è proprio questo. Vogliamo passare agli entusiasti, persone che vogliono condividere un'esperienza, condividere un'esperienza. Dopo abbiamo altri segmenti, io per esempio faccio parte di quelli che sono esploratori, sono alla ricerca di un'esperienza nuova. Se tu fai il stesso evento tutte le settimane nel tuo museo, mi vedrai una volta. L'entusiasta forse tornerà con un amico, tornerà con la famiglia, tornerà perché gli proponi qualcos'altro, che può fare, e questo è un po' il sunto, ma non è questo che volevo raccontare di particolarmente oggi, ma ci permette di dire, nei nostri beni vogliamo attirare queste persone. Tutti gli eventi che ti visti prima, tipo la fiera di mercato, mostra a mercato, abbiamo deciso, allora facciamo anche questo, per attirare questo target che non era mai venuto. Siamo qua, e quest'anno cominciamo a scrivere quello della nuova dimensione. vuol dire, il fai che era di questa dimensione, come sarà dopo dieci anni. Devo dirvi che, semplicemente lo stiamo facendo, dunque non è che tutto questo è scritto fino all'ultimo giorno, però sai che hai i tuoi appuntamenti, hai i tuoi diversi processi per arrivarci, e questo è il momento creativo, di nuovo, per capire cosa intendevamo qui quando abbiamo fatto la nuova dimensione. però è molto molto interessante. Questi sono dunque i numeri che dobbiamo raggiungere, e siamo in questo momento a 200.000, dovremmo finire l'anno vicino a questo, ma non ancora qua, perché abbiamo ancora un anno per farlo. Vedete che il logo cambia, abbiamo fatto un rebranding, quasi dopo aver fatto la parte di ricerca, sia ricerca di segmenti, sia della parte di che tipo di comunicazione, qui abbiamo utilizzato una metodologia che si chiama Emotional Marketing, che progetta la popolazione italiana su diverse emozioni, e da là abbiamo fatto una plateforma strategica di brand, nel quale ci ha portato a cambiare il logo, che è più o meno questa cosa qui, ma che qua non è stato facile, perché non è che fare una cosa così innovativa, ma diciamo che quello che è interessante non è tanto il logo, è tutta la piattaforma strategica di branding che c'è dietro. Ok, questo è quello che vi ho detto, nel 15-18 abbiamo dunque fatto i target elettivi, deciso meglio la nostra offerta, abbiamo investito tanto in canali di comunicazione digitale, quello che vi interessava molto, e abbiamo impregnato il nostro brand. Questo è l'esempio del materiale, dentro ogni piano strategico ci sono delle priorità, ma dei progetti, con dei owner molto chiari, niente di incredibile, è un altro strumento che ogni anno all'interno di questa pianificazione abbiamo inventato uno strumento che è nient'altro che la pianificazione, però l'abbiamo chiamato di modo carino, che si chiama il film dell'anno, perché così ciascuno capiscono di cosa si tratta, perché si comincia a dire planning, monitoring, la gente non ti segue nel viaggio, dunque abbiamo, anche i nostri giardinieri sanno che è il film dell'anno, della loro proprietà, dove lavorano, perché facciamo tante cose, cioè alla fine facciamo tanto, che alla fine, la tre giorni che vi ho detto che era il weekend scorso, un po' di anni fa si è trovato il stesso giorno forse pianificato dai colleghi che è l'evento nazionale, perché non sono gli stessi uffici che giornate fai, perché non sono gli stessi uffici che lo pianificano, è un po' semplice come strumento, ma ci salva la vita, e ogni anno a giugno guardiamo il film dell'anno prossimo, che permette a questo punto di andare ai partner, di pianificazione, investimenti, cose varie. I risultati, e finisco con un po' di numeri, sono quelli, vedete una crescita del 2010, degli iscritti, vi ho detto che è un focus importante, il giardiniere di prima o il volontario del FAI, insomma, ma sanno che l'iscrizione per noi è chiave, è una delle fonte, io lo chiamo il nostro core business, core product, non core business, se ne sono i beni, è una crescita che va bene così, cresce piano piano, non stiamo neanche prendendo tanto da un solo colpo, però stiamo veramente ottimizzando investimenti e risorse, i visitatori uguali, vedete che qua prendiamo veramente per un numero più ampio di proprietà, certo, però la crescita è molto oltre alle proprietà che aprono, sapendo che qua c'è stato dei problemi di tempo, dunque è un problema in termini di meteo, come per gli eventi, se c'è brutto tempo e voglio andare a Camogli, non puoi prendere la barca perché c'è mare mosso, mare mosso, e questa è l'ambizione, essere un esempio di promozione, tutela e di realizzazione e gestione sostenibile. C'è un cuore, perché questa è la fine della presentazione, vorrei avervi parlato di questo nuovo modo di approcciare il mercato, le comunicazioni, voglio mostrarvi l'ultimo video e dopo possiamo passare alle domande, che è una roba un po' diversa, aspetta, le materie che avete visto prima sono di formazione per i nostri volontari o sono per andare in tv, sono dei motion graphic, costano meno che fare un video, questo è diverso, è stato proprio investimento di promozione che volevamo fare viralizzare su internet, proviamo perché non è detto che succeda, o che utilizziamo per andare in tv quando abbiamo la RAI che ci dà dei spazi gratuiti. Questa è una roba un po' diversa che non penso che la donna di Caterina apprezzerebbe tanto. Vediamo. Musica 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 quanto sia facile costruire una comunità di persone che vogliono partecipare al FAI non mi è chiaro come avete iniziato quindi qual è stato effettivamente il primo passo per costruire quella gran quantità di gente che ha costruito oggi la community soprattutto considerato il fatto che stiamo parlando di studenti giovani che oggi mi sembra di vedere dal racconto semplicistico che si può vedere dai media il distacco invece che possono avere i giovani da questi temi questa era la prima domanda ci sono i due ci sono anche quelle che ha detto lui però io vivo con un inquilino che è innamorato del FAI che non è volontario purtroppo perché non ha avuto modo, lo è stato in passato però effettivamente mi racconta vede nel FAI un marchio molto positivo, quindi siete riusciti a fare un branding molto positivo e quindi mi chiedo qual è il primo passo per fare questo tipo di attività e la seconda domanda da Emiliano io sono sconvolto dal fatto che non ci sia un bene in Emilia Romagna e quindi mi chiedo come mai non c'è niente grazie se vuoi rimettere la prima slide così ci sono le persone che sorridono così è sempre più simpatico tipo la primissima allora le domande sono quando è stato creato all'inizio ma ce ne freghiamo un po' nel senso che partendo da nessuno ed è una rete che era rete di persone per bene di Emiliano per bene più o meno scegli delle persone conosci delle persone che si avvicinano a te e vai come oggi fra le sessione community a giocare 40 anni fa sulla community di queste persone dunque a livello locale più o meno dice a qualcuno tu sei il volontario capo trovami altri volontari e questo ha fatto che hai visto che ci sono 19 presidenti regionali si faceva così all'epoca è un po' diverso adesso però adesso quello che succede è che abbiamo su 19 ancora solo due sono under 50 dunque più o meno tutti gli altri sono grandi e sono persone che hanno una certa rilevanza nel loro territorio e intorno ai loro altre persone qual è il loro lavoro? il loro lavoro è assicurarsi di scegliere dei capi di irrigazione con noi della sede che sono dei volontari però che hanno un ruolo dunque dare un ruolo è la prima cosa importante che dopo si crea una delegazione un po' come vogliono ma con dei ruoli che decidiamo anche noi però non c'è mai noi decidiamo loro decidono è tutta una roba un po' così la cosa diventa interessante per risponderti come fai quando vuoi creare il gruppo giovane intorno a qua? beh abbiamo fatto una campagna anche divertente cercasi volontari però in questo caso lo facciamo molto spesso per l'evento con una roba di qualcuno che voglia alcune ore e cose del genere ma di quelli là beh forse il tuo amico a questo punto l'aspetto troveremo una persona più brava una persona più manager dopo ci siamo ancora che sarà bravissimo a raccontare la storia mi tira sì volevo quello là scusate e uno di loro sarà più bravo a fare sovedere persone o raccontare le cose e quello là beh la capo delegazione o il capo delegazione ma vediamo i maschi o la presenza della regione dirà ma senti non vuoi fare questa grande iniziativa non vuoi diventare anche uno dei giovani del fai dopo un po' di anni si crea il gruppo giovane dunque ci vuole un tempo pazzesco è chiaro che io quando vedo i giovani facciamo il convegno annuale i ragazzi mi riconoscono come fai a sapere chi sono ho visto il suo video sulla rete quando sono stato formato per la giornata Caterina all'epoca non avevamo questi mezzi potenti però lei è un altro tipo di volontario e ci arriviamo dunque c'è questa cosa di identificare durante gli eventi delle persone più in gamba perché tu lo vedi se c'è una fila fuori di due ore e che devi raccontare forse devi raccontare più velocemente il prossimo anno però ti metto a fare la fina della fila per dire fate la donazione trovi delle persone proprio la materia e dopo io dopo le giornate che fai la turno sono andata ora nella pizza con i volontari ci sono alcuni che ci trovano un interesse un valore sociale perché hanno un ruolo e come dicevo prima fanno parte di un cambiamento che gli piacerebbe c'è la passione c'è l'idea di voler fare un cambiamento e dopo francamente qualcuno ti dà un ruolo non è mica male nella vita di oggi soprattutto se sei giovane sei all'inizio la cosa che dicevamo su Caterina è diverso che tutti i volontari che hai visto sono quelli che sono formati dalle maestre e che partecipano all'evento e qua chi è la chiave a livello dei volontari è il volontario scuole che va a lavorare con le maestre è totalmente un altro skill lavorare con una maestra tu ce l'hai come mamma è un altro mondo ragazzi è una roba pazzesca perché loro hanno un mondo particolare devi entrarci conosciamo la seconda domanda allora l'acquisizione dei beni nuovi e questo di quello mi stai parlando perché qualcuno potrebbe dirmi non c'è di un'altra parte è complicatissima noi abbiamo accolto delle proposte tutti questi beni non ve l'ho detto più o meno sono stati dei lasciti lasciti testamentari la vira Necchia e così la vira del Balbianello dove alcuni di voi forse sono andati sono i lasciti eredi altri solo uno il castello di Masino è stato comprato ma ha comprato un prezzo simbolico di una persona che non vuole lasciarlo non siamo ancora riusciti a avere una politica di acquisizione il National Trust compra dei posti o salva dei posti dicendo lo compro noi non ci siamo arrivati abbiamo ancora un anno per chiudere questo piano triennale che si chiama i nuovi beni fa parte di questo c'è proprio uno dei progetti che si chiama qual è il nostro modo di acquisire i beni in questo momento non c'è neanche un bene a Roma e dovrebbe anche essere ancora più abbiamo uno a Tivoli va benissimo però ci manca a Roma perché c'è già e qua ti rispondo in parte un'offerta di cultura un'economia che funziona e questo può prendere un bene noi forse non c'è bisogno ma la verità è che non ci siamo neanche riusciti perché c'è già un'economia che gira intorno a questo come facciamo per avere dei posti quello più efficiente in questo momento è l'accordo win-win la nostra sede appartiene al demagno noi siamo là paghiamo elettricità paghiamo riscaldamento sotto ci sono 30 chilometri di scaffali di giornali che la biblica brandense deve tenersi dunque è un accordo dove non lo Stato non deve più pagare questo perché noi ci abbiamo messo i nostri uffici ovviamente le scrivanie le abbiamo fatto pagare o regalare lampade da aziende che ci aiutano la cosa interessante ti ho detto di Lenny Lenny non sa come raccontare una salina è venuto da noi ma è salina e la raccontiamo noi dopo si apre tutto un discorso su è etico non è etico come voi lavora come scegliete i tuoi partner però la cosa interessante è nel parco della nel parco della Sila in Calabria c'è un accordo con l'idea dell'ente parco la cosa interessante in questo momento che sta funzionando bene per noi è farei accordi con dei luoghi che non sono nostri che non diventeranno ma che sono in concessione o dove potremmo fare l'uso per un po' di anni questo sta funzionando bene però non è che posso scegliere e dire ok lo voglio qua e neanche c'è ti assicuro non c'è neanche lo studio di il miglior posto per aprire un bene sarebbe qui voi lo fate immaginiamo in tema di retail vedete il passaggio noi qua speriamo di poter valorizzare i bagni diurni che sono a Porta Venezia io faccio una battaglia per raccontare ai miei colleghi che io voglio soltanto un gazebo sopra e pago anche io semmai l'utilizzo del spazio del spazio comunale ma che mi serve come prendere le persone e quel geomarketing non ci pensiamo neanche però è chiaro che nella strategia c'è che dovremmo avere un bene in ogni regione certo però se tu conosci qualcuno che diciamo che la tua ha una roba interessante ci parliamo perché funziona anche così sono Alice anch'io ho due domande la prima è come e se fate network con i competitor nel senso soprattutto a Milano ma poi in tutta Italia tra il touring club i borghi più belli d'Italia Milano ma continuano a nascere Open House Milano penso che abbia qualche anno neanche quindi come se fate network e la seconda invece più personale nel senso che io ho fatto la magistrale in Bocconi ho fatto l'ACM ero col professor Andrea Rurale magari lo conoscete e abbiamo fatto dei progetti uno dei progetti era un progetto di marketing territoriale sul castello di Masino e uno dei problemi che c'erano quasi 5 anni fa al castello di Masino era che più dell'80% dei visitatori annuali di tutto del castello erano concentrati nei tre giorni del giardino quindi mi chiedevo se in questi 5 anni la situazione era cambiata o se invece avevate deciso semplicemente che la strategia era avere tanti visitatori in quei giorni allora la prima così è networking networking allora la bellezza del non profit è che puoi vedere i tuoi concorrenti essere nella stessa stanza e per esempio quando parlavo un giorno vado all'Unicef dove lavoravano conosciamo tutto era una nuova collega che veniva ricordata dal profit da Colgate e dice la prima volta che incontro un concorrente noi siamo un po' diversi e abbiamo bisogno di fare lobby dunque abbiamo bisogno di vederci abbiamo bisogno in questo momento dove viene ridefinito tutta una parte di legge del terzo settore abbiamo bisogno di dire attenzione se scrivete questo succede questo siamo anche attrezzati per fare un lobby più strutturato però come dicevo i concorrenti nel caso del FAI cos'è? il touring sicuramente una persona che si occupa della stessa tematica ma il touring non è un'organizzazione non profit c'è una parte proprio commerciale una gestione commerciale presa da tante attività commerciale dunque ci parliamo soprattutto quando dobbiamo fare il lobby di nuovo sulle campagne dunque molto spesso vorrà uscire cosa del WWF dell'Egambiente del FAI sì dipende la tematica ma proviamo di fare gruppi per riuscire a mobilitare l'opinione pubblica su una tematica però se tu vedi 2.200.000 voti per il Lughe del Cuore non siamo mai riusciti anche in network a creare una petizione che non è così forte quella sul glisofatto ha raccolto pochi numeri ha raccolto poco in Italia dunque il focus era troppo largo eravamo tutti messi insieme ma veramente secondo me non abbastanza forti per fare la differenza dunque nessun problema a parlare con i colleghi qua con Alessandra che qua con me arriviamo da una giornata che si chiama non profit day però questo è molto più di fundraising diciamo parlarsi tra di noi per capire e scambiare c'è il festival di fundraising dove andiamo anche a raccontarci come approcciamo e con che utilizziamo per fare una tipologia di raccolta fondi perché sono tante lo facciamo dunque però i miei colleghi che si occupano di gestione delle delle biglietterie andranno a un evento di categoria sulle biglietterie esistono ci sono tutti i musei nel mondo che si ritrovano anche in diverse parti la cosa nuova che non c'era un po' di anni fa è che ci fermento perché con Franceschini che ha detto che anche i poli museali dovevano fare raccolta fondi stiamo cominciando a avere l'osservatorio del polimi per esempio che mobilita le persone e cominciamo a parlare di cose che voi fate già da secoli noi come fai siamo visti un po' come un esempio per esempio sul digitale però non mi viene detto qual è la vostra strategia mi viene detto ma investite tanto sì almeno qualcuno mi dice spendete tanti soldi che sarebbe diverso almeno qualcuno mi dice investite hanno capito già qualcosa dunque sì dopo dirti che ogni giorno vedo qualcuno del touring nel mio ufficio no però stranamente quello che è successo è che una ragazza che lavora con me in action ed è andata lavorare al touring dunque alla fine si ricrea hanno capito che hanno bisogno di fundraiser ti ho risposto perché io sono un fundraiser più facile risponderti su questo la seconda era allora Masino sì hai ragione i nostri beni sono vuoti durante la settimana sto esagerando perché non è così però c'è questo 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 trend e il weekend si riempiono sì 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 e il gastro di Masino quello che hai visto prima la mostra mercato è proprio una roba pazzesca arriva a 50.000 persone là per questi tre giorni allora cosa che mi ha fatto la prima è farne un secondo no dunque ci sono tre giorni più due che sono diventato tre dunque moltiplichiamo e la gente fidelizziamo esattamente come prima il resto dell'anno è venuto si fa diversi lavori sicuramente offrire nuove cose c'è stato fatto un parco per i bambini c'è stato finanziato un parco alcuni giochi per i bambini hanno rifatto la caffetteria ha fatto delle proposte un po' diverse rimane che il più grosso problema è che sì c'è l'autostrada che passa là ma comunque in termini di geomarketing è un posto un po' isolato l'ultima cosa che succede a questo punto è il digitale quanto posso investire per far avere le persone e qua su questo territorio particolare non so se avete studiato c'è una vera concorrenza che è la carta dei musei dunque la carta dei musei che tu molti musei del Piemonte sono gratuiti se tu arrivi con la tessera esiste anche qui ma non ve l'ho detto scherzo perché siamo anche noi per esempio alcuni nostri beni sono nella carta musei dunque hai ragione sul fatto che ci sono più iniziative sono ripassato all'altra domanda sono più iniziative c'è più concorrenza però alla fine è bene perché nel momento che si parla di patrimonio siamo felici quanto sarò bravo in questo momento a posizionarmi e dunque fare un marketing per il castello forse quello che avete visto voi e a diffondarlo sul territorio avrei soldi da investire perché il mio problema è che sono ancora se ti ricordi in fase centralizzazione il delegate l'ho cominciato da pochissimo dunque abbiamo cominciato l'anno scorso a mettere a disposizione i nostri beni la piattaforma che abbiamo da due anni abbiamo cominciato a mettere dei budget dedicati per ADV da poco prima tutte queste campagne che hai visto che gestisco io con i miei team sono quelli che hanno fatto un po' lo start up ogni campagna ormai ha un budget di ADV tutta una parte di remarketing l'avevamo su Google Grant che è anche un tipo di ADV gratuito per le nostre organizzioni non profit adesso sta arrivando al livello locale rimane che se io faccio le somme al livello di geomarketing in questo posto ha senso no però se ti offro qualcosa di interessante come da tre giorni arriva l'interno di gente posso farlo ogni weekend dovrei dovrei riuscire ti ho risposto? ciao Silvano noi ci conosciamo abbiamo già condiviso un po' di cose io conosco il mondo del no profit perché l'ho bazzicato per otto anni e quindi mi domandavo le facce che facevano i membri del consiglio direttivo quando parlavi di targeting budget geomarketing cambiamento strategico posizione cioè quanto è stato difficile per te far entrare in questa nuova mentalità e questi nuovi metodi in un'organizzazione che come hai raccontato tu era basata sulle relazioni sui lasciti su una visione diciamo poco orientata alla crescita e all'innovazione grazie infatti noi ci siamo incontri cioè come ci siamo guardati i vostri numeri ho detto ma come fate voi a crescere così tanto no? come facciamo questo qua? da noi c'è stato un board e abbiamo visto questo pomeriggio con Alessandra una presentazione proprio sui board ci sono diversi tipi di board ci sono tipo anche la presidenza che possono essere persone che vogliono fare un po' tutto sì no il nostro board ha diverse anime abbiamo anche i banchieri che uno l'ultimo giorno l'ultima riunione diceva ah ma adesso stiamo facendo del mass marketing allora mi fa piacere a me prima è chiaro che si utilizza tu puoi parlare in inglese parlando con il presidente Carandini che aveva 80 anni ma fa fatica e fa bene perché non deve capire non è che io la mia tecnicità tecnici questa la devo portare a lui e farli capire subito questo però la voglia di cambiare ce l'aveva proprio lui la metodologia di andare fuori e portarla il problema e la difficoltà è far riconoscere la professionalità di chi c'è dentro perché molto spesso è ma chiediamo all'esperto dunque noi abbiamo come tutte le onlus avuto anche dei Brubono la più grande organizzazione di consulting e neanche loro sono riusciti a fare approvare tutto o a fare tutti i loro piani alcuni sono stati accantonati dunque hai ragione non è facile sulla parte del cambiamento reale di Brenda ti dico come è successo che si dovrebbe fare il sito perché il sito faceva schifo e non sto parlando di board member perché ti dico alcuni sono proprio preparati ti parlo proprio le persone più operative e rifare il sito per una persona di 80 anni vuol dire vuol dire le cose che non sono le stesse nostre però va benissimo perché dopo li spieghi li rispieghi essendo persone molto intelligenti riesci a però al momento devi dire guarda che la home page non deve disegnare lei presidente per questo c'è l'agenzia perché ci sta perché se tu hai lavorato in tipo a fare dei libri come ha fatto lui a fare le copertine dei tuoi libri è la tua logica giusto? andavi in tipografia e rivedevi facevi il visto si stampi quando spiego ai miei ragazzi che fanno solo digitale che c'è il visto si stampi mi guardano male c'è una scadenza eh no l'agenzia digitale ci ha detto che stanno lavorando sì però ragazzi c'è una deadline o no e la stiamo rifissando e così per esempio c'è un progetto che aspetto da tre anni mi incazzo mi incazzo un altro discorso però è stato interessante e come la nostra fondatrice ha visto anche il nuovo logo per loro possono essere questo però dopo quando metti le persone definiamo e facciamo interviste di quello che vedono perché vedono molto oltre a noi perché hanno più vissuto il mio consiglio è fare interviste bloccare le persone e prendere da loro perché comunque trovare delle cose utili da rimettere dopo dentro un format che può essere strategico o così del genere il cambiamento era necessario e dunque anche loro lo volevano Allora Corre tu La prima è legata alla domanda sui competitor di Alice perché mi viene in mente che un po' come noi ci consideriamo privi di competitor in Italia per come facciamo quello che facciamo e spesso quando diciamo come migliorarci guardando ai competitor da chi copiare per migliorarci ci immaginiamo di diventare come delle aziende che non fanno quello che facciamo noi ma che funzionano molto bene quindi mi chiedo se anche per voi può essere così e quali sono magari le aziende o i no profit a cui vi siete ispirati in passato nel dire appunto magari non funziona il nostro marketing io voglio fare il marketing seguendo le logiche di XY anche se non è il touring club italiano perché noi vogliamo andare più in su la prima domanda la seconda sempre legata un po' forse al nostro percorso è come è stato se l'hai vissuto o se ti hanno raccontato il passaggio da una realtà tendenzialmente piccola in cui i fondatori chi dava i primi beni i primi persone che partecipavano si conoscevano tutti a una situazione in cui ora immagino che magari nell'ufficio centrale vi conosciate tutti e cento quanti siete ma comunque poi sul territorio è più difficile conoscersi in un'ottica di un'azienda che passa da conoscersi tutti è impossibile che ci conosciamo tutti ma vogliamo che la mission aziendale passi attraverso tutte le persone suppongo che sia più semplice per voi nel senso che soprattutto quando si parla di volontari la mission è più forte cioè uno è lì per forza per la mission quindi non è così scemo ad essere lì se non ci crede mentre da noi magari uno è lì anche per i soldi o solo per i soldi anche se non partecipa però tu non sei un volontario quindi poi c'è anche tutta una componente ma dunque vuoi sui volontari vuoi in generale cioè in generale sia sui volontari che su magari chi lavora a livello è importante la cosa dei soldi perché siamo professionisti è lo stesso discorso di prima dunque se vogliamo che venga a rispondere le nostre professionalità è questo importante che possiamo anche attrarre dal profit ci interessa dunque comincio con la seconda come siamo passati da una roba più piccola e da una roba più grande a livello ho fatto una cosa divertente di recente con persone che gestisco io che sono una quarantina una parte di un gruppo abbiamo fatto questo gioco ho detto vabbè facciamo tre persone uno di più di 10 anni che ha lavorato qui da più di 10 anni uno tra 5 e 10 e uno di meno di 5 perché un giorno mi era successo pare che una persona che era qua da più tempo mi diceva ma lei ha lavorato con lei non lo sapevi ma non lo faccio là che ha una roba pazzesca e dunque ho detto vabbè proviamo di fare questo gioco il mio obiettivo era doppio e secondo me è funzionato era sicuramente creare rapporti un po' di più verso le persone perché le persone più grandi forse sono arrivati comunque a un livello di management che è loro però arrivano adesso delle generazioni più giovani che hanno anche studiato forse altre cose così più moderne e dopo ci sono le persone appena entrate la cosa che si è creato è che quelle che erano ancora da più tempo poi si sono accorti che gli ultimi sono stati reclutati con delle funzioni di risorse umane le persone che quando loro forse erano stati scelti anche dalla rete territoriale dai volontari cioè più o meno in passato non è per tutti così ma eri un volontario eri bravo come dicevo prima ti do un posto da gestire dopo forse ma perché non vieni a lavorare perché stiamo crescendo ci serve qualcuno questo è più che superato non vuol dire che non può succedere ma noi siamo molto chiaro con i volontari diciamo guarda che se fai volontario comunque non avrai un lavoro qui comunque non puoi fare entrambi è stato divertente vedere questo e l'altra cosa la legacy un po' dell'organazione un po' la storia avere i giovani che sono qua come la ragazza che è innamorata di Amnesty che si trova a parlare con le altre colleghe che vede che conosce come tu ma che non hanno mai raccontato come erano i primi giorni del lavoro l'esercizio è stato questo vorrei che vi raccontate cosa facevate prima come è stato il vostro reclutamento e come la fondazione è una cosa divertente di come era la fondazione all'epoca e si è creato questo fermento perché 40 anni ovviamente la gente che c'era 40 anni erano 6 però diciamo che si è creato questo fermento dove qualcuno che qua da un po' di tempo che è stato detto così ha visto che ci sono dei processi perché è una persona che recluta ha visto che ci sono dei processi pazzeschi dunque questo è una roba molto interessante che può un po' rispondere alla tua domanda come l'ho vissuto io l'ho visto negli ultimi sette anni quello che vedo è la la specializzazione le HR sono veramente essenziali a aiutarci a fare job description per tutti però dopo adesso mi sto chiedendo ma il lavoro agile tutta la parte un po' più destrutturate perché abbiamo cresciuto le persone che non erano pronte a pensare in processi a parlare di job description adesso però io vorrei creare delle cose un po' più smart come faccio l'ultimo meeting che ho fatto e non abbiamo il processo per questo due persone alla stessa cosa nella job description mi fa arrabbiare perché ormai dovremmo arrivare a un livello un po' più collaborativo che era dopo della delega c'era collaborativa da qualche parte là come si fa e questo secondo me il più grande challenge non è tanto come siamo arrivati qui che è un po' quello che ti ho detto la prima domanda mi sono scordato la risposta era studiamo dunque adesso mi ricordo studiamo e studiamo per tornare al touring l'abbiamo studiato abbiamo studiato delle cose suoi delle strategie o delle diverse copiare come dici tu è essenziale cioè io faccio direct marketing nella vita ho sempre copiato tutto c'è problema di principi il primo principio è ask 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 il secondo è copi copi tutto quello che puoi perché dopo comunque ci metti il tuo la cosa interessante nello studio io lo faccio sempre per questo le fiere come questo pomeriggio o parlare con Silvano è stato super interessante perché ho scoperto un po' questo inuverino ma come fate a crescere così tanto in questa veloce perché la crescita è molto più spinta è molto più della nostra che è molto conservativa però che è buona per una reazione in un settore che non va bene sempre perché ci sono meno donazioni da parte di italiani e io ho provato di portare l'esterno perché molto spesso guardavamo qua solo qua e la creazione dopo i due anni fa del marketing strategico è fatto per questo è fatto proprio per portare l'esterno dentro ma anche mettere in ordine i studi che facciamo tutte le diverse macro perché non abbiamo soldi a fare delle ricerche di mercato pazzesche però a volte ti serve spendere queste migliaia di euro per andare a convincere qualcuno che dice ma no questo non mi piace questo non mi piace cosa vuol dire questa campagna e questa campagna ha vinto quella là e dunque questo l'abbiamo portato piano piano adesso quello che siamo provati a portare è sempre più fuori certo ma soprattutto una regia perché non tutti partono nel stesso modo quando si parla di studio dunque mettiamo insieme la responsabile degli studi prendiamo delle cose che vengono fuori e da là abbiamo un po' di strategie di marketing il marketing il board visto che si è creato funzione di marketing proprio strategico abbiamo dopo un ufficio operativo tutta la parte di marketing della gestione dei beni dunque sono comunque delle cose che accettano però da noi si dice una cosa che c'è una moneta con due facce la parte dei soldi la parte della gestione e l'altra parte della cultura e io vi ho parlato poco di questo della valorizzazione dunque come raccontiamo sono come in tutti i musei o come non lo so la Bocconi ci sarà il corpo docente didattico importante quanto la parte di gestione nell'ospedale c'è la parte scientifica medicale la parte gestione noi abbiamo la stessa roba dunque oggi io ho parlato molto di una però dovete sapere che c'è anche tutta l'altra parte che è importante quanto questo ti ho risposto? ok allora io invece di farti una domanda anche tu hai domande? si si anche io ti faccio domande invece di farti una domanda ti propongo una scenetta surreale nella quale io interpreto il ministro della cultura italiano che parla con te che sei il direttore generale fai colui che può decidere fai e facciamo un botta e risposta ok faccio le domande come se fossimo seduti a Roma in una trattativa proviamo a fare questa roba allora come ministro della cultura italiana io sono interessato a due cose la prima è aumentare progressivamente ma in modo molto significativo la fruizione che gli italiani fanno dei loro beni culturali e in particolare quello che mi interessa è spostare quote importanti percentualmente non in valore assoluto da i soliti 20 beni visti da tutti a i beni distribuiti sul territorio secondo obiettivo che ho io ho un enorme problema di gestione sia in termini di messa in opera di questi beni mantenimento sia in termini di proprio gestione operativa se decidessimo come stato italiano di usare voi come strumento per fare questa cosa di quanti soldi avete bisogno e per farci cose ok lavorate ogni questo complimenti allora sul sulla prima cosa che è interessante però in questo momento stavo riflettendo ricordami la prima esattamente degli italiani dei loro beni culturali sì ce l'ho allora la cosa che funziona che ogni bene in questo momento è preso abbastanza come un unicum no? ossia i beni anche dello Stato sono proprio gestiti hai detto tu ci sono le 10 superstar le 20 superstar e dopo gli altri un po' lasciati dunque il problema di la gestione è quello che ha fatto Franceschini dire bene adesso raggruppiamoli c'è stato questa po' di poli museali funziona perché noi abbiamo una forza che se tu vieni a Vilanecchi io prendo i tuoi contatti o provo e ti rimando verso un altro c'è un sistema che in questo momento il governo secondo me sono le iniziative le musee aperte e tu uscirai sempre in un posto e andrai molto probabilmente in quello là quello che mi interessa in questo momento è che tu capisci che sei all'interno di una rete di beni e che sono tutti interessanti quello l'ho visto proprio con i miei occhi quando vedi i professionisti di questi poi museali hanno cominciato a farlo hanno cominciato a chiedersi ma come facciamo per valorizzare anche il bene piccolo se c'è tanto traffico su quello grande perché potrebbe interessare le persone perché la tematica è vicino o è complementare e questa è la cosa proprio da cambiare di mettere a fuoco secondo me perché non è funzionato io avrei solo Vilana e chi non sarei qua a parlarti no? La domanda è di quanti soldi avete bisogno per farci cose questa è la seconda dopo la gestione del FAI se hai visto noi se dobbiamo gestire tu questa qua non è proprio l'idea che abbiamo di una fondazione privata una fondazione come la nostra va in subsidiarietà dunque può mettersi a gestire alcuni posti però come hai visto dalla missione finale l'obiettivo è proprio essere un esempio dunque come fare non è un problema di soldi perché non le vogliamo ma insegnare come mobilitare dei soldi alle persone che lavorano già là dunque insegnarlo non possiamo neanche farlo perché io non capisco neanche quello che succede dentro tutta la parte dei tuoi ministeri visto che le organizzate tu e che tutti questi colleghi le hai reclutate tu e qua diventa interessante quando vedi un Franceschini scusate mi sembra che sono la sua più grande fan che va a reclutare il direttore all'estero e che dice io capisco quello che stai dicendo qual è il tuo obiettivo non lo so il tema è questo qua dentro il tuo modello c'è una cosa che io come stato non riesco a fare i volontari io come stato non riesco mai a mobilitare dei volontari la gente non si fida di me non fa quello che dico io e c'è anche una parte di quelli che oggi sono tuoi volontari che se lo Stato provasse a farlo direbbe di cosa stai parlando i sindacati impazzirebbero quindi io non lo posso fare allora quello che è interessante per me e quello che fai tu è che per ogni euro che io metto su di te se tu accettassi di usarlo per capire come il moltiplicatore potrebbe essere molto alto anzi potrei addirittura proporti un deal di questo tipo ogni euro privato che tu riesci a trovare o ogni ora di volontario che tu riesci a trovare io ti metto altrettanto sul piatto ok hai sentito parlare del progetto aperti per voi dal touring perché quello che fanno aprono dei beni aprono il Quirinale per esempio però sono volate che aprono non raccontano perché c'è una categoria professionale che fa questo che sono le guide giusto la cosa interessante è che io ti sposterai con quel discorso perché non è che io voglio che ti faccia questo io voglio che ti diventa bravo a gestire perché un potenziale ce l'hai dunque la gestione della tua bigleteria la comunicazione è quello che ti permetterà dopo di prendere gente che pagherai il problema che hai in questo momento è che c'è le entrate troppo basse per la massa di persone che vuoi utilizzare dunque mi dispiace ma è questo la via però tu sei francese e tu conosci bene la quantità di soldi che la Francia mette sulla cultura che è un moltiplicato pazzesco rispetto a quella che ci mette l'Italia quindi se io volessi fare bene le cose come ministro della cultura italiana dovrei mettere una massacrata di soldi in più se no non riuscirei a ottenere quello che dici non è vero perché la Francia mi dispiace ha il stesso problema appena lanciato la lotteria per il patrimonio culturale e ci ha messo una persona famosa che è un VIP a raccolare i fondi dunque però sta raccolando fondi ha avvicato 15 milioni sì però il Louvre prende un miliardo l'anno ma il Louvre è uno dei dieci che hai qui si no ma se tu vai a Firenze agli uffizi non è un miliardo sono 100 milioni però da quando hanno avuto una gestione diversa sono cresciuti sia le visite e questo il punto dunque te lo sposto non mi interessa dirti quanti soldi hai perché francamente non lo so e dirti che puoi avere le professionalità che ti permettono di aumentare i tuoi ricavi e se tu deleghi che è una roba interessante quello che stiamo facendo anche noi perché a Masino la domanda che ha fatto la collega noi la stiamo facendo la collega che gestisce il bene che non è da sola perché è una struttura per avvicinarla aiutarla dunque la vera cosa che sta funzionando è dare delleghe e obiettivi a questo punto puoi moltiplicare tutto quello che vuoi in termine di risorse che utilizzi per offrire una migliore fruizione ai italiani che è il tuo obiettivo finale vero? dunque fare sapere alle persone che c'è anche questo luogo là che forse c'è un evento di sera perché a questo punto puoi pagare chi vuoi ai sindicati ti dici senti io devo bisogno di fare lavorare altre persone la sera come facciamo come ci organizziamo perché ha fatto un'offerta che piace a lei ma lei in questo museo non ci vuole mai andare dunque io ti propongo non tanto di darmi i soldi ma di capire come puoi fare tu di più grazie a professionalità per dopo rendere più servizi alle persone ma passa anche dall'informazione bellissimo direi museo aperto giusto però ormai la gente lo legge sui notizie forse mobilità se dobbiamo raccontare anche cosa c'è di particolare quali le storie di questo posto là parlando della fruizione degli italiani dei beni culturali oggi se non sbaglio gli italiani li fruiscono pochissimo diciamo quantità di ore nell'anno confrontate con le ore che passano davanti alla televisione o passano davanti a internet però non mi odio i tuoi figli però il punto è che viviamo in un paese in cui invece sarebbe un luna park da questo punto di vista quali sono secondo te i meccanismi che uno stato potrebbe utilizzare per poter aumentare questa fruizione allora quello che è stato fatto in questi momenti era semplicemente ripensare il tipo di offerta come entri nel posto molto spesso la biglietteria non è neanche adeguata dunque già pensare a cosa offri in termini di biglietto di orari e di tipologia di visita dunque la fruizione come diciamo prima devi capire chi potrebbe usufruirlo e farsi una farsi una ricerca il problema è che noi apriamo tutto a tutti con dei orari che abbiamo deciso noi al momento che vogliamo noi dunque e questo forse il primo problema quale tipo di esperienza provi per esempio se vogliono alcune mostre molto spesso me lo propone una società privata che è la guida brava che mi porta là e dopo che mi offre cosa una cena da qualche altra parte vero ci sono anche una società specializzata proprio in questo una schiena amusement e dunque ha preso proprio questo mercato non me lo offre il pubblico il pubblico però mi offre l'affitto di alcuni beni dunque per società per eventi e questo ho cominciato a farlo però piuttosto che fare un accordo con me serve proprio riuscire a capire qual è il mio mercato come lo lo approccio cosa gli propongo e forse fare dei accordi sul territorio per creare un fermento economico sul territorio un'altra domanda l'ultima fammi vedere che uomo noi abbiamo l'abitudine a considerare la fruizione di questi luoghi di queste bellezze che voi gestite o che voi fate vedere in termini di c'è un luogo ci sono delle persone che fisicamente vanno lì a visitarlo poi però ci sono tutta una serie di beni che potrebbero essere presi e utilizzati da privati pagando questo sia in termini di affittare una villa ma anche in termini di avere nelle nel basement dei musei un sacco di opere d'arte che rimangono lì per anni non viste da nessuno forse io non ne so niente su questo ma immagino dovrei saperlo ma ne so niente immagino neanche catalogate e che invece potrebbero diventare una fruizione nella dimensione privata delle persone io sto pensando a un quadro che viene affittato per tre mesi in casa di una persona per una cifra questa cifra va allo stato o va al museo che lo gestisce il tutto con le dovute assicurazioni tutte le dovute condizioni e questo produrrebbe una sorta di airbnb dell'arte e produrrebbe un flusso di danari dai privati verso questi beni voi riuscireste a organizzare una cosa del genere? allora tu hai idee fantastiche che sono in un mondo ideale certo la cosa del non rispettare esattamente il modello perché ci sono dei problemi sicuramente in termini di rigidità di legale di cose del genere ti proporre altro come l'uomo Vitruviano sta dimostrando nei rapporti con la Francia ti sto provando altro la digitalizzazione delle diverse opere perché fruire un'opera certamente averlo in casa sua lo vorremmo tutti infatti adesso mi sembra che la mostra di Leonardo a Parigi c'è una roba di Bill Gates una roba la regina è proprio questa cosa interessante non la ridiamo su questo ci sono anche dei modi di spendere i musei per fare vedere più cose sono d'accordo con te dunque perché non piuttosto mobilitare dei soldi da grandi donatori e ci sono per aprire altre cose però ti proporrei quest'altra roba piuttosto digitalizzare le collezioni e mettere a disposizione ho visto un caso molto interessante di recente di un museo di scienze naturale che sta proprio digitalizzando tutto e lo mette a fruizione di tutti i utenti ricercatori studenti nel caso di un'opera d'arte si può benissimo pensare di prendere dei diritti sull'utilizzazione commerciale di opere d'arte e quello che fanno alcuni musei quando fanno del mercantino del genere così provare piuttosto questo pensare visto che sei una persona che lavora anche sul mondo moderno sul digitale di pensare piuttosto che una roba di a pochi eletti mi daranno i soldi per vedere quelli che hanno possibilità nella loro stanza direi come facciamo a utilizzare il digitale per dare queste bellezze a tutti perché questo diventa interessante un caso interessante è Google Arts che ha un pixelaggio fantastico delle opere e io sono abbastanza convinto che se si chiedesse a Google di digitalizzare le opere d'arte italiane lo farebbe gratuitamente ovviamente poi per uno sfruttamento commerciale loro hanno fatto proprio un progetto separato delle logiche interne a loro e lo fanno noi abbiamo alcune collaborazioni però a livello a che livello lo facciamo a che livello vogliamo farlo dopo la cosa interessante quanti di voi è andato mai su Google Arts negli ultimi dieci anni ok tu si Caterina tu sei brava però il problema è che è stato abbastanza comunicato è stato abbastanza detto qual è il messaggio dietro perché tu sei già sensibilizzato ho già un interesse quello che mi interessa sono quelli che non hanno alzato la mano in certo modo perché qua riesco a fare un sistema interessante ok basta perché sennò poi esageriamo allora grazie mille Patrice per il tuo tempo e ci vediamo per la prossima management pill grazie ti preparatissimo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille